SABATO 9 GENNAIO Buon fine settimana, cominciamo dal santo di oggi e poi il tempo perché ci sono tre giornate interessanti da analizzare dal punto di vista meteo, ma andiamo ad Ancona perché oggi ad Ancona, ma insomma la chiesa festeggia, ricorda San Marcellino Vescovo che come scrive il Papa San Gregorio Magno con la potenza divina liberò la sua città, quindi Ancona, da un incendio. Il sole sorgerà alle 7.46 e tramonterà alle 16.49 e adesso le previsioni del tempo. Vediamo un po' che cosa ci attende per queste giornate, giornate anche fredde, il bollettino come di consueto è quello della protezione civile delle marche che per oggi prevede nel pomeriggio deboli precipitazioni sparse, più insistenti nei settori centro-meridionali ed in progressiva estensione del resto della regione. Abbiamo il limite delle nevicate attorno ai 500 metri diciamo nel pesarese e poi 600-700 metri invece in quello meridionale. Nella giornata di domani, domenica 10 gennaio, ancora la neve, guardate su tutta la catena appenninica, con il limite delle nevicate attorno ai 500-600 metri. Ma nel pomeriggio avremo, nella giornata di domani, precipitazioni che prima saranno deboli ma poi anche a carattere di rovescio. E la giornata di lunedì che più o meno è fotocopia ma è interessante perché? Perché il limite delle nevicate scende ancora e quindi c'è la possibilità che questa neve arrivi anche in collina. E che non hai visto mai che qualcosina, qualche fiocchettino coreografico, come si dice, possa arrivare, sforare e andare da qualche altra parte fin la pianura. Questo per quanto riguarda la giornata di lunedì. Allora, adesso andiamo invece a vedere i giornali. Perché? Perché ci sono diverse notizie interessanti. Allora, quelle più leggere, se vogliamo, e le vedremo tra poco, sono che a Pesaro ormai il cerchio si stringe attorno al vincitore dei 5 milioni di euro. Quindi si sa già più o meno, anzi si sa, non si fa il nome ovviamente, ma si sa chi è che ha vinto. E tra poco vedremo anche chi è. Dico solo che piove sul bagnato. Poi c'è la notizia di Valentino Rossi, che si è fatto uno yacht da 9 milioni di euro e che, insomma, se la godrà per i prossimi mesi. Volendo fare una quarantena prolungata, se ne sta a largo, tranquillo, in mezzo al mar. E poi c'è, appunto, rimanendo in tema Covid, la questione dei tamponi di massa. E devo dire che qui c'è l'orgoglio fanese che ci fa subito dire che la prima giornata è andata strabenissimo, con tanti fanesi disciplinatamente in fila, nonostante le prime ore sotto la pioggia, anche se poi il tempo è migliorato, a farsi tamponare per vedere, appunto, le condizioni fisiche. Dunque, questa è un po' la situazione, diciamo, che andremo a vedere adesso nei giornali di questa mattina. Poi c'è l'altra notizia, che chiaramente ormai sappiamo tutti, è che da lunedì saremo zona gialla. La zona gialla significa che i bar saranno aperti fino alle 18, i ristoranti saranno aperti fino alle 18. E in sostanza c'è questo sospiro di sollievo che tira il Presidente Acquaroli, che oggi merita e conquista la prima pagina delle edizioni regionali, sia del Carlino che del Corriere. Anche se poi il Corriere, vedremo quella di Pesero, opta per un'altra fotonotizia. Comunque, la notizia del giorno è che da lunedì le Marche tornano tra le regioni con meno restrizioni, ma Acquaroli, vedete, dice stiamo attenti, attenzione, perché siamo ancora in una condizione non semplice, non facile. Urbino intanto chiude anche rianimazione, si allarga il contagio tra i medici e gli infermieri, l'ospedale va in tilt, dopo chirurgia tocca dunque ad un altro reparto. Mentre lo screening di massa a Fano c'è la fila, i tamponi positivi sono sopra l'1%, testa a tappeto anche a Marotta e a Marche Nord circa 90 sanitari dicono no al vaccino. Mentre la tabaccheria dei 5 milioni registra un aumento di clientela, la gente adesso va in fila per giocare come se da un momento all'altro in quella tabaccheria dovessero tornare di nuovo disponibili altri milioni. Ma vabbè, questa è la psicologia che fa il suo mestiere, la psiche che è un mondo, un mistero. Fano attesa per i test dopo il contagio, oggi il verdetto a Trieste si dovrebbe giocare mentre Vispesero se ne va a Farabegoli, qui parliamo di Sport e WL, queste le partite per cui viviamo. Ario Costa racconta le sue emozioni in vista della gara cruciale con Brescia. Allora, dicevamo del Corriere Adriatico che apre con lo yacht di Valentino Rossi, guardate che spettacolo, Vale si regala un maxi bolide da 9 milioni di euro. Yacht matrimoniale per Rossi, questo è il titolo, poi vedremo verso la fine della nostra segna stampa un po' qualche dettaglio in più. Sempre sul Corriere, edizione di Pesero, una sola settimana in giallo, l'indice RT sotto l'1 consente alle marche di restare lontane dal lockdown pesante e dunque dal lunedì prossimo si torna un attimino a respirare, ma con i contagi e i ricoveri in aumento è probabile che al prossimo giro la regione finirà arancione. Perché deve fare il gufo? Cioè, intanto pensiamo alla settimana entrante, perché già dobbiamo pensare a quella dopo? Comunque è importante ricordare questo fatto, perché? Perché chiaramente se poi continuiamo a fare un po', tra virgolette, la bella vita, è chiaro che poi siamo costretti a fare i reclusi, perché in una situazione come quella che stiamo vivendo, fare la bella vita significa poi darsi la zappa sui piedi, detta proprio in maniera così, molto spartana, molto semplice. Ora, c'è anche la questione dell'aeroporto, una bella notizia che continua a camminare, come si dice anche sui giornali, rotte per Roma, Milano e Napoli, Kairos Air vola dal primo di luglio. C'è un'intervista che vedremo tra poco nelle pagine interne del Corriere Adriatico, dove si fanno già alcune anticipazioni interessanti su questa compagnia aerea, tutta made in Marche. Mister 5 milioni è benestante, non marchigiano e trentenne. Ecco qua, il Corriere Adriatico con Gianluca Murgia, che comincia a dare qualche dettaglio in più. Il biglietto è comprato da un imprenditore, il giovane è sposato con una pesarese e ha un figlio. E poi a Fano contro lo smog si valuta lo stop agli autoveicoli più inquinanti, e questa sarebbe cosa buona e giusta. L'Italia deve invece imparare a convivere con il virus, ma c'è una svolta all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, perché adesso si pensa ad un piano di riaperture. Perché si pensa ad un piano per le riaperture? Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dice che non possiamo permetterci di tenere chiuso il Paese fino alla fine dei contagi. Benvenuto nel mondo reale, caro Miozzo, e meno male che qualcuno intanto comincia ad arrivarci. Più pericolosa la didattica a distanza del ritorno in classe col buonsenso, sulle regioni a colori, usiamo il verde, almeno diamo speranza. E questo va bene, l'importante è che il verde sia speranza e non illusione. È ufficiale invece, titolo del Carlino a pagina 2, Marche da lunedì in zona gialla, il governatore dice a una boccata d'ossigeno, Acquaroli applaude, ma poi ammonisce, dice che dobbiamo restare prudenti perché il virus c'è e gira molto. Rimangono comunque chiuse le scuole superiori fino alla fine del mese di gennaio, quindi su questa linea il governatore delle Marche non torna indietro. Quindi, secondo i dati del Ministro della Salute, siamo la quarta regione d'Italia per i vaccini somministrati. Questo poi è il dato che ha voluto esporre il governatore, anche con un po' di orgoglio. Il Corriere Adriatico invece a pagina 2 titola così, Marche sette giorni in giallo, RT da oltre un mese sotto l'uno, e all'arancione lui dice non ci penso. Il governatore Acquaroli parla di questa boccata d'ossigeno, venerdì vedremo come va, Sicilia e Veneto hanno chiesto la zona intermedia. Ci sono picchi di contagio però, dice Acquaroli, molto alti. E di fatti basta vedere i dati che ogni giorno pubblichiamo anche noi sul sito occhioalanotizia.it, i dati non sono affatto buoni sui contagi. E questo ci fa capire come le settimane scorse abbiamo un po' fatto gli egoisti. Abbiamo attuato diverse misure tra screening e ordinanze per le scuole. L'ultimo dato parziale dell'indice di contagio è in linea comunque con quelli precedenti. Oltre 3.000 si sono sottoposti a Fano al tampone, trovata positiva solo una persona su 100. Ma l'effettiva infezione da Covid dovrà essere confermata dall'esame molecolare già eseguito. Negativa invece tutta la giunta guidata dal sindaco Massimo Serri, giunta che come vi abbiamo raccontato anche ieri nel nostro telegiornale, si è volontariamente sottoposta al tampone antigenico rapido. Questo tampone è un test gratuito, lo ricordiamo, che proseguirà ancora una volta oggi, nella giornata di oggi, nella giornata di domani, insomma fino al 13. E possiamo dirvi anche i risultati, i risultati complessivi dei test gratuiti di massa che sono stati effettuati nelle postazioni fanesi della palestra Venturini. Alla palestra Venturini sono state tamponate 779 persone, 5 di queste sono risultate positive. Poi al centro Codma invece 1.455 tamponi, 23 le persone trovate positive. Poi alla bocciofila di Marotta 924 tamponi, 6 positivi. Ora ricordiamo che tutte queste persone, quindi sono tante, avete visto, 1.450 al Codma, 800, insomma più di 2.000 persone sono comunque messe, si sono fatte tamponare. Tutte persone asintomatiche, tutte persone che ipoteticamente viaggiavano con una pistola carica addosso e che potevano colpire chiunque involontariamente, chiaramente. Ecco, è stato un gesto di grande responsabilità quello di farsi fare il tampone, chiaramente chi è positivo poi avrà fatto il tampone molecolare, adesso sta in isolamento, sta bene perché tanto è asintomatico, ma per tutti gli altri che sono risultati negativi è bene ricordare che non è un lascia passare, nel senso che questo dà la sicurezza, dà la tranquillità di essere negativo, ma sempre con le antenne dritte perché il contagio è sempre dietro l'angolo. Va bene, detto questo è bene ricordarcelo, è importante. Code anche al bocciodromo, qui siamo a Marotta, sul resto del Carlino, 6 positivi, qui a Marotta 924 esami effettuati sui residenti dei comuni di Mondolfo e di San Costanzo, la gente in attesa però parla di opportunità importante, qui vedete il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri mentre un po' teso da come si evince dalla fotografia, insomma guarda il soffitto ma insomma come a dire finisse presto, facessero presto e soprattutto speriamo di essere negativo, poi è negativo quindi è andata bene per lui e per tutti, molti di quelli anche che si sono sottoposti come il sindaco di Fanno lo vedete in quest'altra fotografia, sempre dal resto del Carlino, anche Massimo Seri si è fatto il tampone e anche lui è risultato come il resto della Giunta, abbiamo detto, negativo. Ha dato l'esempio, spero che la maggior parte, ha detto Seri, dei cittadini accolga l'appello e si faccia controllare. Tra l'altro Seri sarà qui in studio nella prima puntata del 2021 del nostro programma dedicato ai sindaci Primo Cittadino, quindi inaugurerà la stagione 2021. Intanto dobbiamo dire che l'affluenza è stata molto alta, quindi complimenti davvero. Andiamo invece a vedere adesso la pagina del Corriere Adriatico, la pagina 3, perché qui si parla chiaramente dei dati, i dati delle ultime 24 ore, gli ospedali aumenta la pressione, i ricoveri salgono, ora sono 600 e anche i contagi non si fermano, ma questo non è una novità, abbiamo detto, in questi ultimi giorni purtroppo il trend è questo. Ieri 564 infetti su 5.796 tamponi in tutta la Regione, in terapia intensiva ci sono 68 pazienti. Ora c'è un leggerissimo aumento, ma chiaramente basta andare a rivedere i documenti, i dati di aprile, quando le terapie intensive erano il doppio e chiaramente c'era un caos che non finiva più. Insomma, oggi è tutto molto più controllato, è tutto più molto sotto controllo. Sappiamo bene che cosa dobbiamo fare, sanno bene i medici che cosa devono fare. Anche se poi, come si vede dalla pagina 5 del resto del credito di questa mattina, ci sono problemi che comunque insorgono e sorgono soprattutto laddove spuntano fuori dei focolai come all'ospedale di Urbino. L'ospedale di Urbino che ha un focolaio di contagi tra i medici, 13 addirittura in cardiologia, 8 in rianimazione, tutti i reparti ora sono chiusi, i pazienti che erano ricoverati sono miracolosamente negativi e già trasferiti altrove. Le persone che arrivano con gravità vengono valutate subito e poi dirottate verso gli ospedali di Pesero e di Fano. Il direttore sanitario dice che non sappiamo le cause, ma tutti stanno dando il massimo come sempre. Intanto c'è l'appello anche del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che dice che i malati vadano anche nelle strutture private, i nosocomi sono saturi, si preme per il ricorso ad altri luoghi come per esempio Cagli. Anche il Corriere Adriatico di Urbino, titola pediatria chiusa, diventa reparto Covid, pazienti sospetti trasferiti da Pesero, ospedale sotto pressione, positivo il primario con Demi. Gambini dice ho chiesto integrazioni alla Storti, la Storti è il direttore regionale. Mentre c'è la cronaca di Taglio Basso, sempre sul Corriere, frontale auto-tir, c'è stato questo scontro tra un'auto e un camion, a Pole, ferita una donna, schianto in curva a mezzogiorno, illeso il camionista, traffico bloccato e naturalmente disagi per la viabilità. A Urbino invece 11 prof tra i migliori al mondo, sorpresa dalla nuova classifica globale degli scienziati più importanti, il Rettore Calcagnini dice il risultato che ci riempie di orgoglio e la statistica si basa sulla banca dati mondiale Scopus, creata appunto per la ricerca. Sulla questione invece delle vaccinazioni, qui non parliamo dei test adesso, parliamo delle vaccinazioni, i vaccini della Pfizer, BioNTech, piuttosto che l'altro che arriverà tra poco, ma in questo momento parliamo della Pfizer. Comunque, sulle vaccinazioni la questione dei medici, non quelli che lavorano in ospedale, i medici di medicina generale. Ora, anche qui il dato non è che sia entusiasmante, tra i medici che hanno deciso di vaccinarsi. Siamo intorno al 70%, parliamo chiaramente dei medici della provincia di Peso Urbino e che quindi fanno riferimento all'ordine provinciale dei medici. Il personale dunque non ospedaliero, solo il 70% dice sì. Sedute fissate per il 10 e il 17 di gennaio, ora si punta a coinvolgere 120 dottori. L'ordine chiede e ottiene la profilassi anche per il personale amministrativo. A febbraio il via per le RSA, cioè le case di riposo. Il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Peso Urbino, Paolo Maria Battistini, dice mi aspettavo in realtà una percentuale di adesione almeno al 90%. Aderito invece per il momento alle due sedute di vaccinazione, programmata il presidio di Muraglia, quasi il 70% dei medici di medicina generale. Sulla base dei dati forniti da Asur, su un totale di 358 fra medici e pediatri del territorio, hanno aderito in 238. I medici più a contatto con il Covid nell'area Vasta 1, come lo sono stati i medici di famiglia nella prima ondata, osserva la dottoressa Nadia Storti, direttore sanitario di Asur regionale, hanno dimostrato una sensibilità maggiore. E quindi chiaramente c'è una sensibilità che porta a dire sì, faccio il vaccino. Mentre dicono no al vaccino circa 90, anzi senza circa, il titolo è chiaro, dicono no al vaccino in 90. Sono medici e infermieri dell'azienda ospedaliera Marche Nord, quindi l'ospedale San Salvatore di Pesero e Santa Croce di Fano. Il numero ancora oscilla, ma sono tutti dipendenti dell'azienda Marche Nord. Molte donne si giustificano dicendo che vogliono una gravidanza nel 2021. Stanno ricevendo le dosi anche tutti gli amministrativi, quindi non gli infermieri e medici, ma quelli che lavorano all'amministrazione e appunto i non sanitari dell'azienda Marche Nord. La direzione sanitaria dice, scrive in questo articolo Damiane sul Carlino, le direzioni sanitarie non hanno assunto alcun provvedimento nei confronti dei dipendenti e obiettori, né è pensabile trasferirli in altri reparti, visto che il problema poi si riproporrebbe allo stesso modo. Intanto Area Vasta 1, condannata a pagare 589 mila euro, alla ditta che garantiva il 118 e la somma stabilita dal giudice per il mancato adeguamento delle tariffe dal 2010 al 2015, l'azienda si era opposta in vano, dicendo che era materia del Tribunale amministrativo regionale. Poi dopo il contagio del negazionista, ricorderete, abbiamo parlato anche le televisioni nazionali, ne hanno parlato di quel 54enne, se non ricordo male, fanese che lavorava, lavora, ma adesso chiaramente in convalescenza, ma era impegnato al Tribunale come esperto tecnico-informatico, che poi è risultato positivo, è stato ricoverato in ospedale, lui era cosiddetto negazionista, poi si è ravveduto, si è convertito e quindi ha dichiarato poi alle televisioni e ai giornali fate attenzione, mettete le mascherine, state attenti, eccetera, eccetera. Ebbene, dopo quel contagio adesso c'è il problema, lavorando in Tribunale, delle frequentazioni che lui ha avuto nei giorni in cui ha lavorato appunto a Pesaro, nel Tribunale di Pesaro. E dopo il contagio è partito lo screening di massa in tutto il Tribunale. Il procuratore capo avvia l'indagine, già iniziata la raccolta delle adesioni volontarie da parte del personale e dunque adesso si attende poi, si attendono i risultati. Il tecnico però non avrebbe comunicato all'Asur la filiera dei suoi contatti prima del ricovero. Adesso invece parliamo, chiusa la parentesi del Covid, parliamo e andiamo a vedere questa interessante intervista, pagina 7 del Corriere Adriatico di oggi, che riguarda l'aeroporto, ma che riguarda la nuova compagnia, più che l'aeroporto, la nuova compagnia che debutterà nei prossimi mesi, speriamo senza troppi intoppi, e che è targata esclusivamente made in Marche, tutta marchigiana. Rotta su Roma, Milano e Napoli, Cairos Air decollerà dal primo di luglio. Tre scali per iniziare, da lì poi si potranno intercettare i voli internazionali, l'ha ribadito anche Francesco Merloni, si partirà il primo di luglio, il presidente onorario di Ariston, termo dell'accordata di imprenditori locali, che ha fermato un patto con la compagnia spagnola Aernostrum per dare vita alla flotta Cairos Air, con base d'armamento ad Ancona. Le prime rotte saranno Milano, Roma e Napoli, dove poi si potranno intercettare i voli internazionali, anche perché, come ha ricordato in queste due interviste, adesso non ricordo se Guzzini o Tanoni, ma gli aerei che dalle Marche partiranno per andare a Milano e Roma arriveranno la mattina presto, quindi arriveranno al mattino presto sia a Roma che a Milano, in modo tale che poi da lì si potranno raggiungere tutte le destinazioni del mondo, perché uno arriva la mattina presto e ha tutto il tempo per organizzarsi. Insomma, due interviste interessanti, perché Guzzini dice, per esempio, che questa è un'opportunità straordinaria per rilanciare l'economia delle Marche. Nelle Marche ci sono infrastrutture ferme da 30 anni e dice Guzzini, ora basta. E poi invita anche associazioni di categoria, artigiani, commercianti, industriali, commercialisti, ingegneri, architetti. Nessuno deve restare fuori. E dunque, chiunque vuole, anche con piccole quote, partecipare a questa iniziativa, a questa esperienza, che è un'esperienza interessante. Poi, tra l'altro, non dimentichiamoci che se faranno tariffe decenti, non come quelle che faceva l'Italia per andare a Roma, che costava un occhio della testa, se per andare a Roma o per andare a Milano, visto che le tratte ferroviarie sono un disastro, anche la orte falconara è improponibile, è ferma all'età della pietra, ora pensare di andarci in aereo con un prezzo decente è comunque molto interessante. Quindi, benvenga questa iniziativa. Gestire questa impresa, dice invece Paolo Tanoni, l'uomo che sa raccordare le idee e le azioni, dice gestire questa impresa con un manager, però, di altissimo livello. Lui già sa di chi sta parlando, non fa il nome, non fa il nome di questo manager, però dice, io l'ho già individuato, è una figura che nel settore ha già fatto ottime performance. Se è italiano e straniero, gli chiede Maria Cristina Benedetti, non risponde, anzi si risponde, dice il primo, quindi è italiano, ma ancora è presto per fare il nome, potrebbe però pure arrivare dagli Emirati Arabi, chissà. Insomma, vedremo. Poi nella pagina di Fano, invece, è un po' strana la pagina di Fano, perché c'è una pagina di Fano con la foto di Ucchielli, che è il sindaco di Vallefoglia, che in questa fotografia è alle prese con un pentolone, un camino, e quindi sta cucinando una nuova idea di ferrovia. Ucchielli dice ok alla ferrovia Fanurbino e scrive anche a Baldelli. L'ex senatore raddoppia sull'idea della metropolitana di superficie, non solo da Fanurbino, ma anche dalla città ducale a Pesaro. Mentre allo Stadio Mancini di Fano speriamo di finire entro primavera i lavori, dice l'assessore Fanesi. I lavori più delicati sono stati fatti, ma il Mancini sarà fruibile per tutto il campionato. Le opere intanto proseguono. Mentre sull'emergenza Smog, priorità per l'assessore Brunori, stop alle auto inquinanti sulla statale, è la misura più efficace, secondo l'assessore all'ambiente, atteso un vertice con Asur e Arpa. Andiamo velocemente perché mancano pochi minuti. Allora, Acquaroli, 101 mila euro di redditi. Ieri vi abbiamo letto la dichiarazione dei redditi riferiti al 2019, mancava quella del governatore Francesco Acquaroli. Eccolo qua, 101 mila euro, ha dichiarato il governatore delle Marche. Mentre su Giacomo Rossi c'è una precisazione che lo stesso consigliere ha voluto fare al Carlino di Macerata. Il consigliere Rossi, che ha presentato un reddito complessivo di 198 euro, tiene a precisare che questa cifra è bassa perché dipende da una legge per l'agricoltura. Allora, Mister Cinque Unione è un trentenne, il biglietto vincente è stato comprato da un giovane imprenditore, sposato con una pesarese. È un ragazzo che però non è marchigiano, il suo collegamento è la moglie con Pesaro, perché la moglie è pesaresissima, scrive Gianluca Murgia, e che a quanto risulterebbe è decisamente benestante già di suo, cioè ha già i soldi, quindi piove sul bagnato. Per il momento la notizia della vincita sarebbe stata condivisa solo con pochissime persone. Anni fa si diceva a Pesaro che a Pesaro, dopo una vincita, per scoprire il fortunato, bastasse fare in estate una cappatina al porto e a notarsi il proprietario della barca nuova più bella. Sarà ancora così? Si domanda appunto Murgia. Insomma, può essere. Andiamo a vedere, perché ormai non c'è più tempo, vi ho detto di questa barca di Valentino Rossi, eccola qua. Vale si regala uno Iod da 9 milioni, al suo interno tre bagni e una cabina VIP. Il Titilla 2, venduto a un armatore francese, Rossi aspetta per maggio, la fuori serie dai cantieri di San Lorenzo, siamo alla Spezia, e questo si chiamerà Titilla 3. Va bene? Ok, con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì mattina alle 7, questa sera 20 e 30, con 7 per occhio. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti.